E' il saluto di una bimba ucraina per ringraziare degli aiuti ricevuti e a Fano insieme alla sua famiglia, la piccola che ancora non conosce la tanta crudeltà di chi ha innescato una guerra nel suo paese. Migliaia di persone stanno scappando e molti hanno raggiunto anche l'Italia grazie alle varie comunità o ai parenti, come in questo caso, pronti ad offrirgli ospitalità. Un gruppo di cittadini ieri ha iniziato a raccogliere beni di prima necessità da consegnare agli ucraini, arrivati nella città della fortuna. Ok, è arrivata a destinazione le cose donate da Paola, adesso stiamo scaricando la macchina, sperando che siano contenti, poi verranno richiamati domani. Intanto, grazie. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà anche da Pesore Fossombrone, ci ha fatto sapere Paola, una delle organizzatrici. C'è chi ha portato bene e chi ha messo a disposizione le proprie stanze per accoglierli. Intanto, mentre si susseguono le iniziative contro l'invasione per mano di Putin, come dimostra questo video che ci arriva da Cagli, a Pesaro la Caritas ha attivato i conti correnti pubblicati sulla pagina Facebook per avviare la raccolta fondi. Per il momento, però, non raccoglie genere alimentari, coperte, farmaci e altri prodotti da inviare come aiuto umanitario, perché, come si legge nella locandina, non è possibile garantire la consegna vista la situazione attuale. Ad attivare questo tipo di raccolta, invece, la comunità ucraina delle Marche, sempre sui social, è possibile leggere l'elenco dei prodotti e dei medicinali richiesti, con i numeri di telefono dei referenti divisi per città. D'altra parte, la Lega Marche ha annunciato di aver avviato una interlocuzione con l'Erap e la ricognizione dei posti disponibili nei CAS per dare alloggi ai rifugiati. Oggi, poi, Enzo Belloni e Luca Pandolfi, assessori all'operatività e solidarietà del Comune di Pesaro, hanno annunciato SOS Ucraina, la linea diretta attivata in collaborazione con il Comitato della Protezione Civile. Un numero di telefono che risponderà dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19 e una mail a cui i cittadini potranno rivolgersi da mercoledì 2 marzo. L'obiettivo è coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo sin dal primo giorno di guerra e che si sono intensificate da venerdì scorso, dopo la fiaccolata, alla quale hanno partecipato pesaresi e ucraini. A Fano, invece, come ci ha riferito il direttore dell'ufficio pastorale Migrantes, Don Alessandro Messina, la diocesi incontrerà domani mattina i vari uffici e le associazioni di volontariato per fare il punto e dare indicazioni precise su come, dove e quando poter consegnare il materiale utile alla popolazione colpita dall'invasione russa. Il tutto in piena collaborazione con Don Vladimir Medvid, direttore Caritas dell'esarcato ucraino in Italia.